Era diventato il terrore dei vicini su cui riversava angherie di ogni tipo. Dopo anni di insulti e aggressioni, un 54 anni di conserve è stato arrestato dai carabinieri. Le minacce duravano da tempo. In un caso, l'uomo aveva bersagliato la porta dei vicini, una famiglia straniera, con le uova. Atti persecutori mirati a marito e moglie che però terrorizzavano anche i loro bambini, tanto che i genitori lasciavano uscire i figli solo quando erano certi che il vicino non fosse nei paraggi. In più occasioni avrebbe poi aggredito fisicamente i due adulti, tantissime le denunce per le quali ora il 54 anni in attesa di giudizio. Il mese scorso aveva ricevuto anche un divieto di dimora con selve, ma non si era mai allontanato dal comune, tanto che dopo aver sentito le testimonianze di altri vicini, i carabinieri lo hanno arrestato dopo la decisione del giudice.